Si fa incandescente il clima tra PD e Italia Viva in Toscana, tanto da mettere anche a rischio la tenuta del governo del Pegaso. La candidatura di Enrico Letta Siena e la modifica dello statuto in consiglio regionale hanno scatenato un botte risposta al vetriolo. La scintilla in un equilibrio già instabile le parole del leader di Italia Viva, Renzi, sullo statuto nella sua e-news. Se diminuiscono i posti di lavoro in Toscana, aumentano i posti in regione. A me pare una follia, ma ancora il PD toscano, stavolta accordandosi con la Lega, ha approvato l'aumento degli incarichi tra consiglio e giunta. E poi ancora Renzi aggiunge un posto a tavola con il voto favorevole di PD e Lega e il voto contrario di Italia Viva. Domando ai miei amici. Che bisogno c'è in questa fase di crisi di garantire un posto in più in regione solo per accontentare chi è rimasto fuori dalla giunta? Dai, non è serio, non è serio, non è serio. Dura la reazione della segretaria regionale del PD, Simona Bonafè, e del capogruppo in consiglio regionale, Ceccarelli. Stiamo assistendo attoniti allo snodarsi di una strategia del tutto in attesa, fino a qualche settimana dietro, da parte di Italia Viva. È stato sufficiente il materializzarsi della candidatura del segretario del PD, Enrico Letta, nelle suppletive del collegio senese a retino, a scatenare un crescendo di atteggiamenti provocatori, che stanno incrinando il rapporto di fiducia alla base dell'alleanza di governo in regione. E poi, senza giri di parole, sottolineano. Si parla delle poltrone degli altri dimenticando le proprie, che in proporzione ai voti ricevuti sono molte di più, solo per alzare il polverone necessario, e non far capire ai cittadini la strategia innescata con l'obiettivo di motivare una candidatura propria, in contrapposizione con quella del segretario del PD, il tutto con il rischio di compromettere un'alleanza di governo regionale solida e di prospettiva. Non si fa attendere la risposta di Italia Viva, tramite un comunicato firmato da Alice Rossetti, Nicola Danti e Stefano Scaramelli. Bonafè e Ceccarelli abbandonino lo scenario del melodramma e si abbassino a dialogare con noi, qualcosa di più confacente alla politica e al confronto democratico. E' quantomeno bizzarro, continuano, che chi ha deciso di cambiare le regole del gioco in regione, accordandosi in segreto con la Lega e Forza Italia, senza neppure passare dalla Commissione, accusi noi di ribaltone. E poi ancora, è davvero singolare che ci si chieda di appoggiare a scatolo a chiusa la candidatura all'elezione suppletive per il seggio di Siena di Enrico Letta. Una scelta calata dall'alto e frutto di un'alleanza con i Cinque Stelle incomprensibile per i senesi. Pena essere additati come sfascia alleanze. Per quanto riguarda le poltrone, possiamo dire che la storia parla per noi. Ci siamo sempre battuti per ridurle di numero e non per moltiplicarle, come invece da un po' di tempo il PD sembra voler fare. E ancora, il nostro contributo di proposte e di realtà non è mai venuto meno. Certo che i diktat tipici del centralismo democratico non ci appartengono e siamo pronti a pagarne le conseguenze. Non sarebbe la prima volta. Intanto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzea annuncia che la riforma dello statuto è stata rimandata alla prima seduta di settembre vista la molteplicità di proposte, di legge e di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta di questa settimana.